Buongiorno a tutti. La scorsa settimana, nell'analisi weekly su S&P 500, segnalavo nella parte finale dell'analisi stessa che mi aspettavo più salita possibile che discesa perché avevamo già soddisfatto la condizione più che sufficiente per la chiusura non soltanto di questo T settimanale con 9 barre, ma anche quella di un T più 1 perché siamo andati, eravamo andati a fare un minimo qui a 3.200 con effettivamente anche l'indicazione che gli altri minimi erano superiori. Per cui che cosa è successo? Proprio dalla nona candela, il giorno successivo abbiamo iniziato a salire puoi scendere, giusto, solita finta, puoi salire e salire, finta indiscesa e di nuovo salita. Che cosa sta succedendo? Siamo in divergenza rialzista e rispetto agli altri mercati come al solito vediamo che l'S&P 500 ha una forza relativa decisamente più forte. Perché? Perché? Ve lo faccio presto a vedere, chiaspita. Perché su DAX si è incrollati, si è incrollati il 30 mentre invece, come vi dicevo, no, questo è Bitcoin qui il 30 non c'è stato nessun collo, cioè c'è stata una discesa ma ha chiuso probabilmente un T-1 e poi il giorno dopo salita. E su Fuzzimib che è successo? Urca! Dato che la forza relativa del Fuzzimib è ancora più bassa rispetto agli altri due mercati il 30 è stato un collo molto pesante e siamo andati persino quasi, anzi no, abbiamo aggiornato i minimi il giorno successivo per cui il Fuzzimib è il peggiore dei mercati guardate, qui siamo arrivati al massimo a un 61,8% di ritracciamento con l'indicazione che avevo dato sulla Shooting Star su DAX siamo andati ben sopra il 61,8% caspita, siamo andati quasi, non dico al 100% ma siamo arrivati a oltre il 90% di ritracciamento e sull'SMP500 idem siamo molto vicini tra l'altro a chiudere il gap down che è stato fatto registrare il 24 di febbraio quindi prossimo target eventuale per l'eventuale quarto T-inverso vi faccio notare questa cosa possibile quarto T-inverso e proprio a 3360 punti ok? quindi questa è la prima indicazione oltretutto qui abbiamo un hammer che per carità arriva dopo una salita quindi potrebbe significare un'inversione ma andiamo a farci due conti 1 qui siamo a un terzo T che è arrivato soltanto a 5 giorni è vero che può fare un giorno di chiusura e chiudere a 6 e poi ripartire a salire ma potrebbe tranquillamente prima salire ancora un po' prima di andare a chiudere quindi sul nostro indice può fare quello che desidera salita o discesa anche se questa candela ha confermato una divergenza appunto rialzista che è stata accolta in pieno dalla giornata successiva mentre invece come detto sugli altri mercati è stato il disastro nonostante la divergenza vedete? io ero disposto ad andare long ma quando c'è stata la violazione dello swing che vi ho proposto anche nell'ECA e poi c'è stato un candelone rosso successivo sarei stato matto ad entrare queste sono cose che però io ero per scontato ma non so se sono per scontate per tutte le persone che ascoltano e soprattutto mi rendo conto che non sono scontate per alcuni pochissimi detrattori che già non capendo nulla di analisi ciclica voluta figuriamoci se sono qualcosa delle basi per cui pensano che io mantenga la mia view anche dopo determinate cose che si verificano determinate cose che magari loro non vedono non capiscono non notano mentre per me sono chiare come il sole perché perché negli anni mi è capitato di tutto ho studiato tanto e ho un'esperienza interessante davanti ai monitor operativa non soltanto teorica perché ci metto i soldi ok per cui quando ci si mettono i soldi quando ci si mettono i soldi bisogna fare un po' più attenzione rispetto a quando si parla soltanto con spirito e cuore leggero di ciò che può succedere sui mercati peraltro andiamo a vedere che cosa sta succedendo l'inverso l'inverso abbiamo ancora capienza per salire? arrivate a 38 bar su massimo 43 hai voglia posso arrivare ancora a 5 giorni di salita ma posso arrivarci veramente? no potrei arrivare a 4 giorni massimo di salita perché il T inverso questo che potrebbe diventare appunto il quarto T inverso con il superamento dei dunque massimo a 3280 se si superasse i 3280 avremmo probabilmente il nostro quarto T inverso quindi salita quindi conferma di una chiusura ancora che può venire appunto entro 4 giorni al massimo non 5 come ci direbbe la capienza di quello che è è il T più 2 mensile che è arrivato a 38 bar su massimo 43 l'ultimo T inverso ci dice no no non 5 giorni massimo 4 poi ci possono essere accogli tutto quello che volete ma non teniamoli da conto ok altra cosa importante rispetto agli altri indici è che continuiamo a essere dopo che sia stato il golden cross in piena salita e sopra la media mobile a 50 periodi per cui qui ci troviamo di fronte a un mercato che è sprofondato dopo un ciclo master di gan e un raccordo raccordo di grado T più 5 in bear market e in niente perché stiamo parlando del minimo fatto a marzo e siamo a luglio non dico che abbia recuperato il 100% del mercato stesso ma ci siamo vicini è una roba fenomenale semplicemente fenomenale ed è per questo che persone investitori come anche l'oracolo di Omaha si sono arricchiti perché hanno acquistato sui minimi sapendo che questo mercato sale per la maggior parte delle volte è statistica semplicemente statistica però è pazzesco vedere questo genere di statistica a monitor che in così poco tempo si esca da un bear market ragazzi significa che peraltro da qui può star partendo un ciclo master di gan nuovo da un decennio 9 anni 8 anni non so se vi rendete conto attenzione nulla ci dice che sia rialzo perché sarebbe un secondo dopo raccordo un secondo t più 8 dopo raccordo quindi attenzione però certo con questa forza di partenza ecco vi ricordate sempre che i cicli ribassisti che poi diventano ribassisti fanno i massimi sviluppano i massimi nella prima parte e qui continuiamo ad aggiornare i massimi non è nella prima parte che li abbiamo fatti qui li stiamo facendo sempre più avanti li stiamo spostando sempre più avanti quindi per ora sembra un nuovo ciclo master di gan e gan è incluso nella ciclica evoluta è assolutamente fuori dalla ciclica normale di Hurst e per ora sembra persino rialzista quindi spettacolo ok per i prossimi giorni che cosa aspettarsi allora potenzialmente manca talmente poco per arrivare appunto a toccare il massimo a 3280 che vi direi interessante vediamo se ci si arriva serenamente perché spazio di indice ce n'è e peraltro da qui può essere tranquillamente nato dato che non c'è stata nessuna violazione dei 3200 qua abbiamo rischiato 3204 in chiusura di t-1 ma da qui può tranquillamente essere partito non soltanto un terzo t dato che abbiamo 5 giorni sopra questo minimo a 3200 può essere partito serenamente anche un secondo t-1 ok abbiamo le condizioni minime per la partenza e se abbiamo un secondo t-1 è vero che il secondo può sempre essere i bassista va bene ok e spinta però ce ne può essere ancora tanta verso l'alto per cui mi aspetto più salita esattamente come la scorsa settimana la scorsa analisi che è discesa e mi aspetto che fondamentalmente questo si riveli essere il quarto t-inverso ancora appartenente al t-2 mensile inverso nato su questo massimo qua a 3233 è già superato e quindi tutto vincolato a ribasso di inverso rialzo di indici ok per cui target ce li abbiamo già ricordiamoci che si può andare si potrebbe anche provare ad andare a raggiungere i 3360 gap down aperto appunto in data 24 febbraio direi che questo è tutto vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida domenica grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto